Difficile dare una cifra precisa, ma in provincia di Sondrio, a una settimana esatta dall'entrata in vigore del Super Green Pass, sono migliaia e migliaia le persone che se non decideranno di vaccinarsi, ma il fatto che non ce l'abbiano ancora pensato finora la dice piuttosto lunga, potranno scordarsi qualsiasi forma di vita sociale che preveda cena e ristorante, ma anche film al cinema, concerti e spettacoli a teatro, visite a musei o sport in stadi e palazzetti e soprattutto pasti nelle mense aziendali. I dati di oggi parlano di una percentuale del 93,42%, pari a 143.272 persone su un totale di over 12 di popolazione target, che in provincia di Sondrio hanno ricevuto finora almeno la prima dose di vaccino. Quasi 130.000 le persone che invece hanno già completato il ciclo vaccinale. Risultano comunque senza vaccino, o appunto perché hanno rinunciato alla somministrazione o perché hanno avuto di recente il Covid, più di 10.000 persone soltanto in Valtellina e Valchiavenna. Per loro da lunedì prossimo sarà possibile con tampone negativo lavorare oppure muoversi con i mezzi pubblici. Per tante altre attività invece, come detto, scatterà una sorta di parziale lockdown. Il prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello, ha convocato proprio per questo pomeriggio una riunione in videoconferenza del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per discutere delle misure da adottare per l'effettuazione costante dei controlli anche a campione sul possesso delle certificazioni verdi. Si trova invece in isolamento fiduciario in hotel a Parma dopo il rientro dal Sudafrica con la squadra di rugby le zebre nella quale milita il rugbysta di Delebio Massimo Ceciliani. Siamo tutti negativi alla variante Omicron, dice stiamo bene, abbiamo fatto un altro giro di tamponi e siamo tutti negativi. Tornando in provincia di Sondrio, sul fronte contagi, i dati alle 23.59 di ieri e comprendenti le giornate di venerdì, sabato e domenica parlano per la provincia appunto di 102 nuovi positivi che vanno a sommarsi ai 450 residenti in Valtellina e Valchiavenna che già erano positivi in questo fine settimana. Una situazione in peggioramento insomma che seppure non si avvicini neppure lontanamente ai numeri di 12 mesi fa ha portato all'apertura proprio oggi di un altro reparto Covid-19 dedicato sempre nel primo padiglione all'ospedale Morelli di Sondalo. Oggi qui i ricoverati sono 25, esattamente come venerdì, con tre nuovi ricoveri nel fine settimana e di questi ricoverati sette sono nel nuovo reparto. Abbiamo un'arma formidabile per contrastare il coronavirus, osserva il direttore generale di ASST Tommaso Saporito. L'auspicio è che anche chi finora non l'ha fatto si prenoti per la vaccinazione compiendo un grande gesto di responsabilità per sé e per gli altri. A questo proposito da sottolineare il successo del Vax Day che si è tenuto proprio quest'oggi a Livigno. Da questa settimana inoltre aumenteranno le giornate di operatività dei centri vaccinali della provincia e si allungheranno gli orari per garantire la somministrazione di 10.000 dosi alla settimana a partire dalla seconda metà di dicembre. ASST è impegnata anche a risolvere una serie di problematiche legate alle sedi dei centri vaccinali di Morbegno e di Sondrio, limitate negli spazi e alla disponibilità di medici e infermieri. In particolare per quanto riguarda Morbegno, da ASST confermano che si sta lavorando per tornare al polo fieristico.